L'errore di Olivia Di Casai prima dello stacco, le doienne per il comando, le doienne avanti a Nichi del Duomo, in terza posizione Orchestra Car, poi in recupero all'argo il favorito Oro FKS. All'avanguardia le doienne, in seconda Orchestra Car, sbaglia Orchestra Car, così in seconda Nichi del Duomo, terzo all'esterno Oro FKS, 13 e 3 in lancio. Si esce dalla piegata con il favorito che passa al comando. All'avanguardia Oro FKS in seconda posizione, le doienne, in terza Nichi del Duomo, poi Nubiva Guerrelle con alato Mandela, quindi l'indice Nord Pro. 29.1 il quarto iniziale, il 600 in 43.7 alla media, il 1.12.8 con Oro FKS sempre avanti alle doienne. Poi terzo all'esterno Mandela, quarto lungo la corda Nichi del Duomo, quinto in fuori l'indice Nord Pro. 36 il secondo parziale, 14.6 la media per i primi 8 completati in 59.7. Oro FKS avanti alle doienne, si completa il giro in 14.6 con Oro FKS sempre all'avanguardia, nella sua scia sempre le doienne. In fuori rimane Mandela, poi all'argo l'indice Nord Pro con all'interno Nichi del Duomo, quindi Olson Lady, 28.9 la terza frazione. Oro FKS al comando, ingresso in dirittura. Oro FKS avanti a Mandela, Oro FKS Mandela, le doienne, Nichi del Duomo, l'indice Nord Pro e Olson Lady all'argo di tutti. Oro FKS al comando per la seconda, scatta Olson Lady, ma scatta anche le doienne, le doienne. Oro FKS Olson Lady, 7.6.10 i numeri. 29.7 il quarto conclusivo. 1.58.3 il tempo, media chilometro, 1.13.9. Le doienne, quota ricca, 12.85, valeva 5.50 per la quota fissa. Avevano ben individuato la possibile alternativa al super favorito di Roberto Vecchione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.